Il controllo del territorio e la presenza dell'ambulantato che va combattuto, il Comune di Ischia si sta dando da fare, abbiamo visto già i primi risultati. Sindaco Ferrandino, bisogna comunque incrementare questo tipo di azione sul territorio, così come richiesto soprattutto da cittadini ma anche dai commercianti. Si sta intensificando una serie di attività di controlli sul territorio grazie alla Polizia Municipale, controlli che spaziano oltre che per quella che è la circolazione veicolare, che afferenta anche per quanto riguarda in generale il rispetto delle ordinanze per il conferimento della spazzatura. Anche quest'anno, nonostante che quest'anno il Comune di Ischia non è stato destinatario di fondi particolari da parte del Ministero degli Interni, sono molto intensi i controlli anche sugli arenili in contrasto con quella che è l'attività dell'ambulantato abusivo. Infatti, negli ultimi dieci giorni sono stati emessi ben tre DASPO urbani da parte della Polizia Municipale, con sequestro di merce e sono state combinate sanzioni molto pesanti. È un'attività che andremo anche ad intensificare ulteriormente, proprio per garantire a coloro che frequentano i nostri arenili maggiore tranquillità e maggiore sicurezza. Fino a questo punto siamo soddisfatti per l'attività che si sta ponendo in campo.